Sono state tante le azioni che sono state messe in atto dai vari stati del mondo a difesa delle libertà degli uomini e dei diritti fondamentali. Parliamo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale del 1950. Parliamo della Convenzione di Oviedo che è nata nel 1997 il 4 aprile. Parliamo della stessa Costituzione italiana che è nata nel 1948 il primo gennaio all'articolo 32. Le libertà degli uomini e la scelta di cura sono dei diritti inviolabili e nessuno ci può costringere a un trattamento sanitario obbligatorio. Ma miei cari amici vi voglio dire con il cuore in mano che la libertà purtroppo non è per sempre. La libertà va difesa giorno dopo giorno anche al costo di mettere gli scarponi. Nessuno può difenderci, gli unici che ci possono difendere è il popolo stesso. Quindi ci dobbiamo unire per non perire sotto i colpi di una dittatura sanitaria. Insieme siamo origine. Grazie a tutti.